Open Day questa mattina all'Istituto Tecnico Industriale di Sasserian Joey, con importanti novità in campo informatico, chimico, elettrotecnico e meccanico. Quattro settori in completa sinergia, grazie a una collaborazione tra studenti e docenti dei quattro rami di specializzazione dell'Istituto. Grazie all'eliminazione dei compartimenti stagni si è potuto realizzare l'applicazione per smartphone Molecularium, un'app salva chimici che consente di risalire a formule composti digitando nella formula chimica il nome, ideata e progettata dagli studenti di chimica informatica Daniel Qualbu e Elia Spiga. Tre progetti futuri, la possibilità di disporre dell'app su nuove piattaforme con nuove lingue e nuove funzionalità. Sono stati inoltre premiati alcuni studenti che hanno dato particolare lustro all'Istituto Tecnico Industriale Anjoey. È stato conquistato un terzo posto sul podio dei giochi della chimica ed è stata vinta la fase regionale delle Olimpiadi di informatica. La consegna degli attestati di riconoscimento è proseguita con la premiazione degli iscritti al triennio di meccanica per la realizzazione di un braccio meccanico. Protagonista della manifestazione IT in vetrina. Infine è stato conferito un assegno di formazione del valore di 1000 euro in corsi di specializzazione ad Alessio Secchi. Primo sul podio UNAE, Istituto di Qualificazione delle Imprese e di Installazione degli Impianti per particolari meriti nelle specializzazioni elettronica ed elettrotecnica.